Ciao a tutti amico, c'è io la Cadix Rattel, se vedete questa è in descrizione. All'interno della confezione abbiamo la Cadix Rattel, un joystick per l'OSD e un cavo. Il peso è di 66 grammi. Questa vista arriverà al 100%, se avete questa versione su Dukitup, avete permesso di usare questa versione. Questa Cadix Rattel è usata per fare gli ingressi, ingressi, ingressi per le impostazioni. Questo era stato usato per l'anno 1900 e 226. 226 è il codice della versione 2.0. Se avete questa versione o dimenticate di usare questo, il controller rovescia è usato per fare il volo di drone. Questo è un tempo di FPV Cam. Se questo vi lasciate un like, questo è lasciato qui dietro e questa lente. La lente di 66 pixel. La lente di 66 pixel hanno andrate da assicurazione per la pila e l'assicurazione per la lente. L'assicurazione della lente era 2226 e 96 e vediamo questo e l'altro. Questo tempo di registrazione andrà data sulla pila, mentre la lente ci ha le possibilità delle luci. La luce è vera data che schiaccia il motore. Il motore è stato andato per conservare il 96 grammi. Questo era un esempio più 9 ed è adesso. XXL XXL di 99622. Questo era tutto. Ha buttato sulle altre prestaci di oggi. Se questo vi è mandato qualcosa, allora lasciate 3 secondi. Adesso è ora di fare qualcosa per il tempo. Ok. Adesso mi manda di fare le opzioni cosa ci offre questa videocamera. E' stato premere il bottone per accedere al menu. Ma andiamo all'accesso per andare all'accesso dell'interruzione. A presto. a presto. Andiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.